Caos su caos e interessi contrastanti non stanno aiutando il post-sisma ad Amatrice. È grande la forza in campo per l'emergenza terremoto, ma è grande anche la confusione sui ruoli dei soccorritori inconsapevoli erranti. Il secondo giorno dopo il terremoto ha visto l'apertura di un campo attrezzato di protezione civile. L'autorizzazione però è arrivata alle prime ore del mattino, quindi a più di 24 ore dal tragico sisma. La ricognizione degli edifici si sta realizzando in queste ore e si cercano luoghi deputati alla logistica per dare ricovero a tutte le specialità impegnate nei soccorsi, a cominciare dal soccorso alpino, presente in massa anche con le unità cinofile. I diversi tipi di soccorritori stanno arrivando numerosi da tutte le parti d'Italia. I gruppi di protezione civile sono presenti in massa ma sembra mancare un vero e proprio coordinamento. Così stampa, sfollati e volontari vagano da un capo all'altro del piccolo paese, lamentandosi della confusione che non aiuta il lavoro. Impossibile non fare il paragone con il terremoto dell'Aquila del 2009. Sebbene accusata di essere militarizzata, la gestione dell'emergenza fu efficace, una condizione ad oggi opposta a quella che viene riscontrata ad Ammatrice.